Ciao Paola, da quanto conosci Acqua e Sole? Da due anni. E quali sono i servizi che utilizzi? Tutto, lavanderie e asciugatrici. E che cos'è che ti piace di più di Acqua e Sole? La pulizia, l'ordine delle macchine e la pulizia che c'è nel negozio. Grazie mille. Niente, figurati, ciao.